Per un anno non potranno avvicinarsi e men che meno entrare presso i locali pubblici di Sala Consilina. E' quanto disposto dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio nei confronti di 17 giovani che nell'estate del 2022 sono stati coinvolti in una maxirissa all'esterno di un locale della Movida Salese. La vicenda aveva attirato in maniera molto negativa l'opinione pubblica anche per le conseguenze che sono derivate a danno del locale gestito da giovani del territorio che sono stati costretti a chiudere per sette giorni la loro attività. Nonostante, a rendersi conto dello sfociare della rissa, avevano immediatamente provveduto a chiudere l'attività intimando i giovani di allontanarsi. La questura di Salerno, nell'ambito dell'azione di contrasto al fenomeno della violenza urbana commessa dai giovani durante la frequentazione di locali pubblici, aveva dunque avviato le indagini per risalire responsabili della rissa scatenata nel giugno del 2022. Indagini che hanno poi portato ad individuare 17 giovani ritenuti responsabili dell'episodio di violenza e ai quali, nelle ultime ore, il questore Conticchio ha erogato la misura di prevenzione personale del divieto di accesso e stanziamento all'interno e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento presenti nell'area della movida del comune di Sala Consilina per la durata di un anno. Le accurate indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno infatti portato ad identificare giovani, tra cui anche ragazze e minorenni, resisi responsabili della rissa iniziata all'interno del locale pubblico e protrattasi fin nel parcheggio adiacente per una decina di minuti. Alcuni partecipanti alla rissa venivano colpiti con bottiglie ed altri oggetti, riportando lesioni e contusioni curate presso il pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'attività investigativa, sapientemente condotta dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, secondo le direttive del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Melchiorre, ha consentito l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per proporre l'applicazione dell'importante misura di prevenzione ad ulteriore testimonianza della strategica e indispensabile sinergia delle forze dell'ordine, la cui attività è costantemente finalizzata alla riaffermazione dei principi di legalità e sicurezza, all'insegno della collaborazione e del concorso costruttivo ed efficace.